Oggi a Sorsi di Benessere vi propongo un frullato, un frullato senza lattosio con tutti ingredienti che sono alleati della pelle che possiamo definire anti-age, non solo quindi è benefico ma anche molto goloso perché guardate gli ingredienti, il latte di cocco è rimineralizzante ed è proprio un idratante naturale della pelle e poi i frutti rossi, mirtilli, cranberry, fragole sono ricchissimi di vitamina C ma anche di potenti antiossidanti e gli antiossidanti combattono i radicali liberi che sono i responsabili dell'invecchiamento della pelle ecco come prepararlo, è semplicissimo prendiamo il frullatore versiamo il nostro latte di cocco che è anche ricco di potasso, di minerali mirtilli cranberry fragole ecco il nostro smoothie è pronto, guardate che bel colore lo versiamo in un bicchiere se gradite potete aggiungere dei pubbetti di ghiaccio fresco altrimenti è già pronto da bere voilà